ciao a tutti e benvenuti benvenuti a tutti voi miei cari amici ascoltatori di italiano in podcast oggi facciamo un piccolo esperimento e speriamo che funzioni non sono nel mio stanzino barra studio di registrazione sono in un'altra stanza della mia casa nella stanza in cui di solito registro le mie dirette e registro anche alcuni video che ho fatto con altri amici come quattro chiacchiere con philip o con mara oggi registro in questa stanza perché voglio fare questo esperimento voglio fare il podcast anche con il video quindi mi faccio vedere mentre mentre registro la puntata per gli amici che possono farlo ecco un saluto per gli amici che possono vedermi ciao a tutti possono vedere il mio saluto anche in video bene ho deciso di fare questa prova ve l'avevo già detto altre volte che volevo registrare anche il video mentre registravo il podcast è un po più difficile perché non posso sbagliare troppo posso sbagliare come faccio a volte nel podcast ma non non posso fermarmi devo continuare a registrare perché non voglio interrompere il video ci sarà forse un altro problema quello dell'audio non perfetto perché questa stanza forse può essere meno adatta alla registrazione del podcast perché ci sono più rumori dall'esterno io spero che non si sentano ma è possibile è tardi e mezzanotte e mezza e quindi forse questi rumori saranno pochi forse sentirete qualche qualche macchina oppure qualche gatto che non dorme la notte ma spero davvero che questo esperimento funzioni perché voglio farlo anche altre volte ho deciso di farlo oggi anche perché ho preparato un po' questa stanza per registrare domani molto probabilmente anzi quasi sicuramente domani registrerò questa intervista con con giuli un'amica che aiuto con l'italiano farò quindi quattro chiacchiere con giuli come ho fatto quattro chiacchiere anche con philippo era tutto pronto il mio la mia configurazione delle luci della della camera e anche dello sfondo erano pronte e infatti gli amici che mi seguono anche in video che possono vedere anche il video possono notare possono vedere lo sfondo il mio nuovo sfondo in realtà è un vecchio sfondo ma mara ha fatto queste modifiche che vedete dietro di me e che hanno aggiunto qualcosa di più carino a uno sfondo che io già amavo molto quindi mara ha messo dei dettagli e dei particolari in più che hanno arricchito questo sfondo che userò per le mie dirette e anche per le interviste o tutti i video in cui vi racconto qualcosa ecco e spero anche il podcast se non ci sono troppi rumori a quest'ora forse per un po mi trasferirò qui a fare gli episodi del podcast con un bello sfondo e quindi anche con un video per tutti voi spero che sia un'idea che vi faccia piacere ma per questa domenica 19 febbraio voglio provare a fare qualcosa di nuovo e quindi benvenuti all'episodio audio e video all'episodio numero 633 di domenica 19 febbraio 2023 non ho registrato il podcast ieri sabato primo perché volevo riposare in realtà volevo riposare anche stasera ma poi ho deciso di fare il podcast come sempre e in più aggiungere questa piccola sorpresa spero che il video non sia terribile e spero che sia qualcosa in più che aggiunge un po di valore al nostro appuntamento e quindi prima di andare a dormire questa sera facciamo insieme questo esercizio di ascolto e di comprensione con questa piccola novità del video non troppo lungo questo è più un saluto che un podcast molto lungo quindi cercherò di essere breve e di non esagerare con la durata dell'episodio voglio solo raccontarvi qualcosa di questo fine settimana molto semplice in realtà ho qualche appunto adesso ve lo posso far vedere anche scusate l'audio questo è questi sono i miei appunti quando registro il podcast la sera scrivo solo alcune brevi frasi per ricordare le cose più importanti quelle che voglio quelle che voglio dire ecco ma questa sera l'elenco non è lungo semplicemente un fine settimana passato tra riposo e un po di lavoro ieri in particolare il sabato è stato un giorno senza lezioni da molto tempo non avevo un giorno senza neanche una lezione e questo mi ha fatto venire voglia di rilassarmi e di godermi un po di tempo libero in realtà avevo un elenco lungo di cose che potevo fare ne ho fatta qualcuna non tutte però certamente non posso dire di non aver fatto niente ieri mattina ho iniziato presto la giornata con una con una bella passeggiata e una buona colazione e poi mi sono dedicato a una cosa importante mi sono dedicato proprio a sistemare un po meglio il mio stanzino barra studio di registrazione ho spostato un po di cose alcune le ho tolte ho fatto un po di spazio in realtà e alla fine ho anche cercato di migliorare l'acustica cioè il suono dell'ambiente è stato un buon lavoro devo dire però purtroppo devo inventarmi qualcosa di meglio per insonorizzare meglio la stanza perché arriva ancora un po di rumore dalla casa dei miei vicini perché un muro una parete di questo stanzino è al confine con un altro appartamento diciamo che ho ridotto molto l'impatto di questi suoni quindi non sono più così forti ma in qualche ora del giorno è ancora possibile sentire questi rumori che arrivano dall'altra parte proverò a fare meglio però è già molto buono perché in moltissime ore della giornata è certamente il luogo più silenzioso della mia casa diciamo che per la maggior parte del tempo per la maggior parte della giornata la stanza è davvero la migliore per fare le registrazioni audio e per essere utilizzata come studio di registrazione come vi ho detto tante volte quindi un buon lavoro che mi ha portato via tutto il mattino tutta la mattina se volete e poi prima del pranzo ho avuto un appuntamento con un mio caro e vecchio amico che mi ha chiesto un favore mi ha chiesto di prendermi cura di un suo dispositivo nel senso di configurare questo dispositivo perché è nuovo lui non è molto pratico non ha molta esperienza con queste cose ho già fatto la stessa cosa con un vecchio dispositivo simile un vecchio dispositivo simile che lui aveva adesso ha comprato un nuovo dispositivo e quindi mi ha chiesto di configurarlo esattamente come ho fatto l'ultima volta abbiamo fatto quattro chiacchiere ovviamente mi ha raccontato di qualche problema fisico mi ha raccontato di un'operazione che deve fare tra poco a una spalla e niente abbiamo semplicemente fatto un po di conversazione mi ha anche portato un piccolo regalo un'ottima bottiglia di spumante i miei amici sanno che io non prendo assolutamente soldi per queste cose e quindi ogni tanto quando mi chiedono qualche favore mi fanno qualche piccolo regalo che non posso rifiutare perché questo è un'offesa per noi italiani ma penso per tutte le culture i regali non si rifiutano ma loro sanno che è l'unico modo insomma per ringraziarmi perché non faccio mai questo tipo di lavori per persone che non conosco e solo per pagamento anche quando lavoravo in modo più attivo nell'informatica come programmatore non ho mai sistemato un computer configurato un portatile o altri dispositivi per persone estranei e con un pagamento non l'ho mai fatto solo per i miei amici più cari e solo ed esclusivamente gratis beh dopo l'incontro con questo mio amico sono uscito per un'altra bella passeggiata ieri è stata una giornata davvero molto molto bella un giorno di primavera praticamente con le temperature più alte il sole nessuna nuvola una giornata molto diversa da oggi e certamente davvero un assaggio della primavera perfetto tra l'altro per la festa del carnevale questa è la settimana del carnevale e ieri nella mia città nel pomeriggio per tutto il pomeriggio più o meno dalle due in poi c'è stata questa festa grande festa sul lungomare della città dove ci sono stati dei ci sono stati dei momenti di divertimento insieme anche a dei gruppi musicali ovviamente una festa un po speciale per i bambini tutti i vestiti in costume con delle maschere insomma c'era un sacco di gente io ho fatto una passeggiata veloce un po' prima dell'inizio della festa vera c'era tantissima gente e e poi sono rientrato a casa ma sentivo dalla mia casa la musica i rumori di questa festa con tantissime persone tantissime famiglie soprattutto e anche ragazzi giovani insomma è stato un pomeriggio di divertimento di carnevale nella mia città di solito questa festa c'è alla domenica o al martedì addirittura il martedì grasso l'ultimo giorno del carnevale quest'anno hanno deciso di farla sabato credo forse anche a causa del meteo le previsioni metereologiche perché oggi domenica non è stata una giornata bellissima non è stata come ieri quindi non c'è stato questo sole caldo una giornata molto diversa il cielo era un po' coperto anzi direi quasi tutto il tempo coperto c'era un vento freddo anche nell'ora più calda insomma all'ora di pranzo nelle ore con più luce il sole non scaldava abbastanza ed era spesso coperto e in più c'era questo vento freddo che dava molto fastidio perché era molto intenso e molto forte comunque dopo questa passeggiata sono rientrato e poi devo dire la verità devo essere onesto volevo riposarmi un po' un piccolo pisolino pomeridiano ma alla fine il risultato è stato che per tutto il pomeriggio ho oziato e mi sono riposato guardando un po' di serie tv in inglese per migliorare il mio ascolto e la mia comprensione proprio come fate voi quando ascoltate il mio podcast io non so come viene questo video la mia posizione un po strana ma mi piace la posizione della webcam che ho scelto dall'alto forse nell'intervista con giuli cambierà ma adesso mi piace questa vista per registrare il podcast e spero che sia una buona posizione anche per voi che lo guardate ok quindi ieri pomeriggio ozio poi una bella pizza per cena una bella diavola la mia preferita e di nuovo un po di riposo un po di come dire un po di momenti di rilassamento no questo è un modo brutto per dirlo diciamo che mi sono rilassato per tutta la serata mentre guardavo ancora qualcosa sono stato pigro ma ogni tanto questo è giusto questa mattina invece è cominciata in un modo un po diverso beh sempre una bella passeggiata ma un po più breve perché volevo rientrare e fare un po più di lavoro oggi e infatti per tutta la mattina mi sono occupato di due o tre cose sistemare alcuni appunti per questa registrazione di domani con giuli sistemare altri appunti per preparare un'altra registrazione con un'altra persona nelle prossime settimane un'altra amica che spero di presentarvi molto presto anche con lei faremo una breve una piccola intervista e forse con lei faremo altre cose insieme altri contenuti sempre per tutti voi che studiate la lingua italiana questa mattina quindi ho fatto un po di questo lavoro un po di lavoro alla scrivania di preparazione per queste cose ho avviato anche qualche mail qualche contatto con i miei studenti purtroppo sono stato pigro e non ho mandato degli articoli interessanti per le prossime lezioni forse lo farò domani mattina presto ma comunque mi sono occupato di queste cose prima del pranzo e prima del pranzo anche ho fatto anche un'altra cosa ho fatto un'altra corsa dopo giovedì ho deciso di correre anche oggi il mio tendine di achille sembra in buona in buona forma questa mattina mi ha dato delle buonissime sensazioni mentre camminavo ho qualche fastidio quando vado a dormire la sera o qualche fastidio quando mi sveglio al mattino è ancora un po freddo però dopo aver camminato un po dopo una bella passeggiata di solito non c'è più nessun problema e infatti questa mattina è stato così dopo la passeggiata non c'è stato nessun problema e mi sentivo molto bene ho deciso di correre di fare una corsa e di capire un po com'è la situazione intanto per gli amici che mi vedono mi sistema un po le cuffie le mie nuove cuffie monitor di cui vi ho parlato per ascoltarmi mentre parlo al microfono questa è una cosa importante così posso sentire quello che sentite anche voi usate qualche piccola notifica anzi faccio in diretta ho spento le notifiche perché altrimenti mi possono disturbare e io non posso interrompere a questo punto la registrazione beh ho deciso di correre come vi dicevo sono uscito è stata una buona corsa alla fine sono riuscito a correre 10 chilometri forse un chilometro in più dovevo smettere a 9 chilometri per non affaticare troppo il tendine anche se funziona bene ma non dovrei esagerare dovrei essere più prudente ma oggi volevo fare un test sulla su una distanza un po più lunga è andata molto bene sia per il tendine sia per la mia condizione fisica la corsa è stata più facile di giovedì mi sono sentito meglio non sono ancora abbastanza veloce non ho ovviamente recuperato la mia condizione precedente questa è una cosa più difficile ci vuole più tempo non è una magia non basta iniziare a correre però devo dire che la corsa di oggi è stata migliore di quella di giovedì più facile nel senso che ho sofferto un po' di meno la brutta forma fisica di questo momento e devo dire che mi ha dato molta soddisfazione subito dopo la corsa ho messo del ghiaccio prima ho pranzato anzi no prima ho fatto una doccia poi ho pranzato e poi mi sono steso un po' a riposare con il ghiaccio mentre mi rilassavo un po' in attesa delle lezioni del pomeriggio il pomeriggio presto quindi ho guardato ancora qualcosa per rilassarmi un po' e riposare e poi ho fatto un paio di lezioni fino all'ora di cena la cena ha dato inizio al digiuno quindi adesso sono circa tre ore e mezza anzi quattro ore ormai che non mangio ormai quasi l'una di notte o l'una di mattina questa è una cosa strana perché qualcuno dice l'una di notte qualcuno dice l'una di mattina io fino alle tre dico che è notte dalle tre in poi dico che è mattina ma non farò le tre non farò il vampiro sarà un podcast più breve non così lungo tra poco finiamo e vado a dormire comunque una buona corsa quindi buone lezioni due una bella cena adesso inizia che il digiuno è iniziato il digiuno non ho fatto molto altro mi sto dedicando quando il tempo a vedere perché una serie tv che io amo ho avuto accesso alle ultime stagioni che mancavano che non avevo visto e adesso è come un po' una dipendenza appena un attimo di tempo devo guardare un nuovo episodio e quello che ho fatto questa sera dopo la cena e prima di iniziare con il podcast un po' tardi mi sono messo in moto e ho finito di configurare quello che vedete per per provare a fare anche il podcast con il video e spero che stia venendo bene anzi poi metterò una domanda quando pubblico il podcast domani lo farò vi chiederò se vi è piaciuto o no questo esperimento nuovo gli amici di youtube forse sono contenti perché possono vedere qualcosa mentre mi ascoltano parlare e spero che anche voi che usate spotify siate contenti della possibilità di guardarmi in video bene tutto qui non aggiungo nient'altro perché voglio darvi qualche notizia prima di chiudere siamo già a 24 minuti quindi voglio muovermi un po' vi parlo di un carnevale una festa in particolare ce ne sono tantissime lo sapete c'è via reggio venezia adesso non posso dirle tutte perché sono tante e gli altri si offendono ma voglio parlarvi di questa tradizione che c'è a ivrea in provincia di torino tra l'altro vi parlerò di torino in futuro molto presto perché c'è un piccolo progetto che ancora non è sicuro al cento per cento ma c'è un'idea su questa bella città di torino che mi riguarda ovviamente e presto ve ne parlerò tra l'altro questa questa giornata mi ha beh non posso dire esattamente ancora questo di questo progetto ve ne parlo un altro giorno ecco scusate questo piccolo questa piccola confusione che ho fatto e ovviamente non mi posso fermare perché non voglio fermare il video bene parliamo di ivrea di torino parliamo un altro giorno mi dirò di più ivrea in provincia di torino è una città abbastanza grande non troppo piccola e qui c'è una tradizione molto particolare per il carnevale c'è una battaglia fatta con le arance ci sono delle persone su questi carri allegorici questi vi ho già parlato di questa cosa no come in tanti carnevali nel mondo si creano delle scene proprio su su dei camion su delle macchine con una scenografia proprio viene costruita una scena e tutte le persone salgono su questo carro e sono vestite in modo da essere in accordo con il tema di questo carro quindi se si riproduce una scena le persone sono vestite nel modo giusto per quella scena e ad ivrea fanno questo ci sono queste persone sopra questi carri che sfilano cioè si muovono all'interno nelle strade della città e dalle finestre e dalle parti più alte insomma si svolge questa guerra delle arance le persone dalle finestre o dalle parti alte tirano arance alle persone sui carri e viceversa cioè anche le persone sui carri allegorici o a volte sono semplicemente dei camion lanciano arance contro il pubblico questa battaglia sembra avere origini molto antiche nel medioevo e si svolge durante gli ultimi tre giorni di carnevale domenica lunedì e martedì oggi è stata la prima battaglia di questa guerra e domani e dopodomani ci saranno le altre due è una cosa molto divertente anche da guardare però ogni anno genera un po di polemiche ci sono circa 50 carri 12 mila persone coinvolte in tutto questo e soprattutto 11 mila quintali di arance e la polemica è proprio in questo la polemica è nel fatto che si spreca un cibo così importante e anche così buono per fare questa battaglia per fare queste battaglie qualcuno insomma si lamenta che si lamenta del fatto che non è molto giusto sprecare il cibo in questo modo ma ogni festa di questo tipo molto tradizionale di solito porta con sé qualche polemica come questa beh questo è il primo racconto di carnevale domani e martedì vi farò altri racconti vi racconterò scusate vi racconterò di altre tradizioni di altri carnevali proverò a fare un po di ricerca se ho tempo e vi racconterò qualche altra festa particolare per oggi però basta con ivrea possiamo chiudere la parentesi del carnevale con questa festa bellissima che si tiene in questa città nella provincia di torino nella città metropolitana di torino in realtà un'altra notizia interessante è quella che riguarda l'atletica leggera sono in corso i campionati italiani di atletica non so se sono campionati italiani si c'è stato un colpo di scena nella gara sui 60 metri di velocità questa specialità è molto particolare di solito c'è solo nei campionati italiani nei campionati nazionali diciamo bene in questa specialità il nostro jacobs il nostro campione olimpionico sui 100 metri in italia è il re in contrastato senza avversari su questa distanza dei 60 metri bene oggi è stato battuto da samuele ceccarelli che ha corso i 60 metri in 6 minuti e 54 secondi e abbattuto appunto il campione olimpionico jacobs che di solito vince sempre questa manifestazione un piccolo colpo di scena ma chiaramente jacobs resta ovviamente un grandissimo campione abbiamo semplicemente trovato un altro campione sulla velocità samuele ceccarelli diventa un'altra arma dell'italia nelle competizioni internazionali più importanti e ovviamente siamo contenti di questo ultima notizia per gli amici che amano gli animali e anche io amo gli animali oggi il 19 febbraio è la giornata mondiale delle balene mi piace darvi questa notizia perché questi animali sono straordinari per tante ragioni per la loro grandezza per il loro modo di vivere sono sempre oggetto di studi e purtroppo sono anche spesso vittime di tanti problemi la caccia le sostanze che inquinano il mare insomma la vita di questi giganti così antichi questi giganti del mare è sempre minacciata da tanti problemi e con questa notizia direi che va bene così che possiamo chiudere questo episodio sperimentale di italiano in podcast l'episodio numero 633 con questa strana vista su me e il mio microfono possiamo chiudere questa nuova esperienza e vedere come va non vi posso lasciare senza una frase celebre oggi uso semplicemente un modo di dire che riguarda il carnevale non è di nessuno è semplicemente un proverbio un'espressione che si dice spesso soprattutto da bambini in realtà queste sono frasi che si imparano a scuola ovviamente spesso e si usano appunto da bambini bene la frase celebre di oggi questo questo proverbio sul carnevale di oggi è questa a carnevale ogni scherzo vale ma che sia uno scherzo che sa di sale una frase molto semplice come vi dicevo è una frase che si usa nelle scuole quando siamo bambini che ci insegnano i nostri maestri e le nostre maestre in realtà c'è una versione un po' più anzi mi leggo anche l'altra versione un po' più forte se vogliamo sì un'espressione un po' più colorita ed è questa a carnevale ogni scherzo vale e chi si offende è un gran maiale ma questa non è da bambini però almeno non dovrebbe essere da bambini però voi la potete sentire comunque chiudiamo qui con questa frase celebre sono davvero curioso di sapere cosa pensate di questo esperimento quindi provate a cercare la domanda se non mi dimentico di inserirla è un buon modo per farmi sapere come è andata questa prova non so se la ripeterò anche domani forse sì forse no vediamo vediamo per questa sera l'audio mi è sembrato buono forse perché un po tardi e spero che sia sempre così perché voglio fare altri episodi come questo cercherò di organizzare lo stesso stile la stessa configurazione anche nel mio stanzino barra studio di registrazione e forse posso unire il video e all'audio e l'audio di buona qualità in quell'ambiente vedremo vedremo vi farò ovviamente sapere ma per oggi è tutto qui vi ringrazio per avermi visto e ascoltato vi do l'appuntamento a domani per adesso me ne vado a dormire quindi paolo vi saluta ciao a tutti ciao ciao a tutti Grazie a tutti.